Ognuna con un cristallo specifico per ogni chakra? Allora guarda, io in realtà regalo a tutti quanti un cristallo più vicino, queste sono piccole, a tutti quanti regalo un cristallo più vicino, e lo posiziono nel chakra che qui devo lavorare, in genere ci metto lo scotch e lo posiziono nel chakra, è chiaro questo? Quindi in realtà usiamo anche le essenze, se avete qui un sandalo, un'essenza di sandalo sarebbe perfetta, il sandalo rilassa molto per esempio, oppure il jasmine che avrebbe molto, anche gli incensi, se ci avessimo un incenso potrei fare vedere come si lavora la pulizia dell'aura, dei piedi, fino ad arrivare alla testa, in tutto l'ovulo della struttura.